10 5 4 3 2 1 vai 50 al palo sinistra 4 più tieni per destra 4 più apre e al cartello rovescio ritarda a destra 3 più tieni inganna attenzione inganna ritarda a sinistra 3 fino a fine siepe e in fila a sinistra 3 e a destra 3 più tieni apre e ritarda a destra 4 tieni apre 40 e ritarda a ceca a destra 3 più tieni lunga in sinistra 4 tieni e ritarda al palo a destra 3 più tieni e in fila a sinistra 3 più più tieni apre 50 e a pe di palo a ceca a destra 5 tieni pela destra 5 tieni pela e in fila a sinistra 4 più pai 50 e al palo a sinistra 5 cieca apre calma calma e attenzione stacca shikana entrata a destra stretta attenzione shikana entrata a destra stretta eccola calma 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 lorenzo calma gira tutta 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 vai vai calma lorenzo 100 sinistri cechi calma calma c'è anche i sinistri c'è anche i sinistri